Si è costituito nella caserma dei carabinieri di Corinaldo il 35enne che stamani verso le 8 ha aggredito a martellate con una coltellata il nonno Giuseppe Marconi di 74 anni che aveva atteso all'uscita da casa in via Crocifissetto 11 in una zona periferica. Alla presenza del suo difensore l'avvocato Stefano Mengucci è stato interrogato dal PM Irene Bilotta ammettendo le sue responsabilità senza però fornirne il movente. A quanto risulterebbe ci sarebbero stati dei dissidi con l'anziano parente. Stando inoltre a quanto si è preso l'aggressore disoccupato ha problemi psicologici e farebbe uso di stupefacenti e che per questa ragione spesso chiedesse soldi ai nonni. Il 35enne con il martello ha quasi sfondato il cranio dell'uomo colpendolo poi con un coltello da cucina alla scapola. L'anziano è stato trasportato in miliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona e sottoposto ad intervento chirurgico e dove ora si trova in prognosi riservata. L'aggressore è stato trasferito invece nel carcere di Montacuto Mattia Morganti e l'ipotesi nei suoi confronti e di tentato omicidio.